Sono due riconoscimenti assegnati alle aziende ospedaliere del Veneto ed in particolare a quelle della provincia e la città di Treviso nell'ambito del concorso Accademia Pat Salute, un'iniziativa di Forum Pa in collaborazione con Pharma Factoring che premia le eccellenze nel settore e-health. I progetti Best Practice nella sanità digitale sono stati selezionati in una rosa di oltre 70 candidati. Per la marca viene premiata la carta donna dell'azienda ULSS7 di Pieve di Soligo, una card USB realizzata per seguire la donna in gravidanza in ogni fase della gestazione. Permette infatti di memorizzare sia i vari referti medici che le immagini diagnosticate. Premiata anche la cartella clinica informatizzata di medicina fisica e riabilitativa dell'Ulss9, un progetto realizzato dal Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale di cui fanno parte a titolo volontario 23 aziende sanitarie ed ospedaliere. Arsenal.it, questo il nome dato alla cartella informatizzata, dà la possibilità di gestire la parte ambulatoriale del reparto di medicina fisica e riabilitativa delle aziende partecipanti e consente di condividere i documenti clinici prodotti. Un'eccellenza dell'Ulss9, quella di Treviso, è stata messa a disposizione di tutti gli altri 22 soggetti che ergano servizi sulla medicina fisica e riabilitativa nel Veneto. Quindi in realtà ci si mette in rete? Assolutamente sì, anzi oggi la necessità sia gli strumenti tecnologici ci permettono di farlo, ma anche il fatto che i pazienti cominciano ad avere una mobilità sul territorio. Una persona viene vista qui a Treviso può essere poi verificata la sua situazione da tutti i punti della nostra rete, da Odelzo, come da Motta, come di Livenza, come da altre sedi e in futuro probabilmente la persona vista a Treviso potrebbe essere, se un domani dovesse fare una visita a Cittadella piuttosto che a Verona, potrebbe, il medico che accoglie questa persona, può avere le informazioni in tempo reale senza che nemmeno il paziente debba girare quei pezzi di carta.